buongiorno a tutti grazie per partecipare a questo evento oggi pomeriggio introduco il dottor menina della direzione formazione istruzione e vi giusto qualche informazione tecnica per le domande potete utilizzare la chat e poi le leggeremo alla fine del seminario grazie eccoci allora buongiorno a tutti anche da parte mia il questo momento è inserito all'interno del programma orientati che come saprete probabilmente orientati.org è il portale del sistema di orientamento di regione del veneto si come dire costruisce si fonda su 17 reti distribuite sul territorio regionale bene grazie alla collaborazione continua costante con le reti è emersa la necessità di fare un affondo sui temi dell'impatto della emergenza epidemiologica da covid 19 nell'ambito dei servizi per l'orientamento quindi l'obiettivo di oggi è un po capire quello che si è potuto fare quello che si fa in tema di orientamento eh vincolati da questa condizione diciamo assolutamente eccezionale quindi l'obiettivo di oggi è un po focalizzare quali sono state le esperienze più interessanti in materia di orientamento in un contesto nel quale l'incontro che spesso costituisce lo strumento principe per le politiche di orientamento è eh vietato pretuso quindi siamo molto interessati a un approfondimento di questa natura buon lavoro e eh enjoy come si dice in inglese grazie eh grazie dottor Menin eh buongiorno a tutti eh io sono Sandra Rainero e mh non so se qualcuno di voi ha partecipato all' incontro di ieri ieri vi ho raccontato una storia perché quando parliamo di analisi di indagine poi diventa un po' noioso no raccontarvi così quindi cerchiamo di raccontarvi delle storie quindi ieri vi ho raccontato una storia del territorio delle risposte delle famiglie rispetto al tema dell'orientamento sempre legato appunto al periodo ehm in cui viviamo eh di eh lockdown più o meno eh forti oggi invece voglio raccontarvi un'altra storia ed è una storia che almeno con con la mente ci porta eh ci porta in giro per l'Europa ci porta in giro dell'Europa ci porterà in Irlanda in Danimarca in Grecia eh perché ehm durante questo periodo in cui siamo stati eh costretti a a cercare di mantenere un servizio che è quello dell'orientamento ehm vivo malgrado le difficoltà quindi diventare virtuali ci siamo posti la domanda di come altri eh altri paesi altri territori ehm cercano di affrontare la stessa sfida che stiamo che stiamo vivendo noi ehm quindi ehm quello che vi racconterò eh le esperienze che eh che che condivido con voi oggi pomeriggio eh riguardano sicuramente questo periodo che chiamiamolo straordinario e speriamo che resti straordinario per la sua severità ehm ma che in realtà eh si inserisce in un cambiamento profondo quindi una trasformazione eh sociale, tecnologica, culturale eh legata alla potenzialità da una parte ma ancora tanti punti di domande dall'altro rispetto a quello che la tecnologia può fare per sopportare anche questi eh processi eh di orientamento quindi quello di cui vi parlerò oggi è il risultato di eh anche qui di un'indagine di un'analisi fatta soprattutto a tavolino perché ovviamente è stata fatta fra aprile e maggio mentre eravamo tutti in lockdown a meno io lo ero a livello eh europeo quindi analizzando che cosa gli altri paesi a livello europeo eh hanno costruito non necessariamente per questo periodo vi farò vedere che insomma eh ci sono paesi che che lavorano su queste tematiche da moltissimo tempo ma che eh in qualche modo hanno costruito dei sistemi che hanno degli strumenti e delle modalità di erogazione del delle attività di informazione e di consulenza orientativa ehm diciamo digitale. E quando ci siamo posti ehm questa domanda che cosa fanno gli altri ci siamo posti anche un'altra domanda che è quella di eh cercare di capire poiché l'orientamento non è un concetto eh universale dal punto di vista della delle politiche nazionali nel senso che ogni nazione in Europa ha una declinazione propria ok seppure i valori eh principali i concetti principali tipo l'orientamento permanente l'orientamento per tutti fanno parte ormai eh della nostra cultura eh orientativa e quindi abbiamo cercato di da una parte riportarlo rinquadrarlo in quello che viene considerato il il quadro eh delle politiche nazionali in particolare eh il quadro sull'orientamento del MIUR e eh dall'altra parte eh quelli che sono gli altri fattori che chiameremo pilastri cui dobbiamo porre attenzione quando parliamo di orientamento di qualità di come la tecnologia e l'orientamento virtuale o digitale eh possono eh o facilitare o come ci dicevano i genitori che vi raccontavo ieri eh magari eh allontanare l'interesse verso questo tipo di servizi eh oltre a questo abbiamo eh raccolto quindici eh pratiche eh e abbiamo cercato di legare queste pratiche alla realtà veneta quindi a quello che il dottor Mionina vi ha eh accennato prima quindi il portale unitario orientati.org della regione come strutturato proprio per eh per capire in che modo e che differenze e che similitudini ci sono dal punto di vista dei servizi sia informativi che consulenziali quindi proprio di strumento anche di auto orientamento esistono a livello europeo. Eh la la fonte primaria di questa ricerca ehm è stata è stata una serie di studi fatti dal Cedefop per chi non conoscesse il Cedefop è l'agenzia europea che eh si occupa delle politiche dell'educazione in senso ampio fra cui appunto anche eh l'orientamento con cui eh fra l'altro abbiamo fatto una lunghissima eh intervista e che ci ha dato un po' di eh orientamenti, ci ha orientati eh a nostra volta eh rispetto a quello che succede eh in Europa. Quindi quello che abbiamo cercato di capire o di carpire eh guardando questi strumenti ovviamente tutti in lingue diverse quindi non è stato sempre è così immediato eh abbiamo cercato di capire eh tre livelli di eh operatività cioè il livello organizzativo come sono strutturati questi sistemi, il livello tecnico cioè quali tipi di strumenti vengono eh messi a disposizione degli utenti e i livelli operativi come funzionano, se sono sempre aperti eh se c'è interazione o altre attività di questo tipo. Soprattutto guardando agli strumenti che sono disponibili online. Questo per cosa? Per ehm darci delle ispirazioni per eh cercare di migliorare eh attraverso appunto il l'adattamento o comunque la conoscenza di quello che succede in altri contesti nell'erogazione sul nostro territorio. Eh prima di di cominciare a costruire un po' eh la casa quindi a spiegarvi quelle che sono le le fondamenta un po' anche di come abbiamo cercato di guardare a questi casi eh europei che dopo velocemente vi farò vedere ehm abbiamo eh rilevato che eh se la tecnologia eh può eh è diventata dirompente in tutti gli ambiti della nostra vita ovviamente inclusi i servizi pubblici eh come quello dell'orientamento ci sono alcuni aspetti che riguardano appunto la tecnologia e l'inter e l'interazione con la tecnologia che possono abilitare o in caso di mancanza disabilitare l'orientamento come abbiamo chiamato virtuale. Allora il primo il primo aspetto e e questo faccio riferimento soprattutto la all'esperienza della didattica a distanza è la possibilità d'accesso da parte di tutti quindi chiamiamola l'universalità eh di accesso a questi strumenti quindi infrastrutturale ma anche eh personale, sociale, familiare, economico eccetera. E il secondo aspetto eh riguarda proprio la qualità del servizio virtuale. Sappiamo e abbiamo visto che anche che le famiglie ci dicono che eh vederci online non è la stessa cosa che che vederci insieme o guardare un video di una scuola non è la stessa cosa che andare a scuola e parlare con le persone. Un terzo aspetto molto molto importante è quello delle competenze degli operatori. Per chi gestisce un processo in presenza eh andare virtuale non significa semplicemente rifare la stessa cosa online. Ci sono delle dinamiche che vanno controllate. Se non ci sono queste competenze da parte degli operatori è difficile che lo strumento virtuale sia efficace ed efficiente tanto quanto il fisico. L'ultimo aspetto riguarda la cultura digitale in generale cioè quanto non solo eh gli operatori ma le famiglie eh i territori i paesi in questo caso no ehm sono accettano o sono propensi ad utilizzare questo tipo di strumenti. Quindi questi quattro fattori vanno sempre ehm presi in considerazione perché vedremo che in altri paesi europei ovviamente la cultura, l'accesso eh le competenze degli operatori ne parleremo un po' più nei dettagli eh variano rispetto al nostro contesto. Il processo che abbiamo iniziato e ripeto è iniziato nel senso che dovrà continuare in in un'ottica di miglioramento continuo quando eh andiamo a vedere gli altri c'è eh nel nel campo soprattutto del marketing o comunque del eh dell'economia eh l'idea del benchmark cioè di identificare la buona o la migliore pratica eh o il il competitor migliore per ehm per trattarlo come misurarlo come come obiettivo a cui raggiungere. Nel nostro caso eh il benchmarking non è sufficiente perché vogliamo migliorare oltre che eh imparare dagli altri e quindi adattare e questo è un concetto del bench learning in cui al sistema analisi aggiungiamo il sistema apprendimento. Questo significa fare una riflessione critica di quello che succede in altri eh in altri paesi, in altri casi e cercare di riportarli e di cogliere e di migliorare continuamente questi esempi per il proprio contesto. Un altro aspetto che eh che a cui ci siamo ci siamo riferiti quando poi abbiamo scelto queste questi casi sono quelli che io chiamo i tre i tre pilastri dell'innovazione cioè l'innovazione deve avere degli effetti positivi su almeno tre livelli. Il primo livello è quello dell'utente cioè se andiamo ad erogare digitalmente o virtualmente l'orientamento l'utente è il primo pilastro eh che deve in qualche modo essere coinvolto gradire e ehm beneficiare eh di questi servizi. Il secondo è la qualità delle informazioni e quindi eh la capacità di trasporre ciò che viene eh l'informazione che eh viene data in presenza anche in modalità virtuale con cambiando quelle caratteristiche di comunicazioni che sono importanti nella 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 parte dell'erogazione e anche della fruizione digitale e la terza è quella delle reti eh le reti che sono fisiche ma che sono anche virtuale virtuali e che devono interagire ok al fine di eh creare per esempio interoperabilità o comunque delle relazioni faccio l'esempio classico il punto di entrata unico ha reti ed informazioni diverse come vi farò vedere dopo in alcuni esempi. Ehm il le tipologie quindi diciamo il focus no gli ambiti tematici di eh di questi casi che abbiamo studiato abbiamo cercato di farli rientrare eh in maniera eh non dico artificiale poi insomma forzata ok eh nei sei ambiti tematici a cui fa riferimento a cui fanno riferimento le linee guide nazionali del MIUR sull'orientamento permanente del 2013 che ve li eh dico velocemente il primo ambito eh è l'orientamento contro il disagio formativo quindi in particolare l'orientamento a contrasto eh della dispersione scolastica del disagio formativo e scolastico. Il secondo grande ambito che si suddivide in tre sotto ambiti è quello del miglioramento delle potenzialità occupazionali. Questo si riferisce in maniera particolare nelle transizioni fra eh scuola e lavoro. Il terzo ambito è l'orientamento inclusivo ok? Quindi la personalizzazione da una parte soprattutto per chi ha particolare vulnerabilità o diversità per cui eh ha bisogno di servizi individuali e il coinvolgimento delle famiglie ma anche della comunità eh in senso ampio rispetto al alla scelte. Quindi questi sei che ripeto eh nella pratica se fra di voi ci sono operatori vi sapete che questi sei aspetti si mescolano molto spesso insieme nella realtà, nella prassi eh sono gli ambiti su cui abbiamo cercato di trovare degli esempi a livello europeo. L'ultimo aspetto e poi prometto che 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 parlo di di quello delle pratiche che abbiamo identificato è un altro aspetto importante, un'altra domanda che ci siamo posti no? Eh quello che abbiamo chiamato le sfide tematiche, possiamo anche chiamarle ehm degli obiettivi di eh diciamo transizione e interazione fra quello che è il sistema classico eh di orientamento in presenza e quello che può essere una nuova forma almeno ibrida o comunque virtuale eh di quelle che sono le attività di orientamento eh digitale e virtuale. Quindi eh due sostanzialmente dal punto di vista ehm le grandi categorie eh nelle quali si divide eh si dividono le attività di orientamento. La prima è chiamiamolo la parte eh consulenziale. Quindi come eh riuscire ad integrare eh quelle attività di orientamento legate a consulenza, comunque al servizio, quindi i colloqui piuttosto che i test, piuttosto che altre tipologie di di servizi consulenziali molto spesso individuali che ehm che avvengono in presenza con gli strumenti digitali. La stessa cosa riguarda come integrare e scambiare eh le informazioni, cioè sappiamo che chi eh si orienta ha bisogno di un certo numero di informazioni che può essere delle scuole, delle tipologie di lavoro, di contratto, dei settori, cioè questi tipi di informazione sul mercato del lavoro, sull'offerta formativa, sull'offerta scolastica, come si trasformano online e soprattutto come sono facilmente accessibili online. Una terza eh grande sfida rispetto appunto al al mettere insieme a creare queste forme blended di orientamento, quindi miste, ibride no? Fra virtuale e fisico è anche come ci scambiamo le esperienze. Le esperienze sono sempre una cosa molto importante no? Quindi è qualcuno che parla dell'esperienza eh rispetto alla scelta scolastica eh scolastica o lavorativa ma anche altri studenti che hanno scelto delle scuole piuttosto che proprio scambio di esperienze fra operatori. Quindi diciamo quasi un'educazione alla pari. Ehm il quarto è quello che riguarda l'accompagnamento alla transizione. Quindi diciamo quell'aspetto che riguarda ehm i momenti più eh importanti, delicati delle scelte ma anche eh di quelle persone che hanno bisogno in qualche modo di essere reintegrati perché hanno perso la bussola per dircela così in maniera semplice. E l'ultima parte è quella sul tema legato alla sensibilizzazione cioè l'importanza che nella complessità eh attuale eh riveste la capacità di orientarsi dentro alla realtà e anche eh la valutazione del diciamo degli effetti dell'impatto di attività di orientamento. Qua vi faccio alcuni esempi ma vado molto veloce su questo. Quali sono gli esempi di ibridazione no? Per esempio la creazione di un portfolio elettronico cioè un luogo dove io elettronico dove io metto dentro tutte le mie esperienze, tutti i miei appunti, tutte le mie eh competenze ehm piuttosto che eh strumenti online interattivi che mi permettono per esempio di non solo fare il test ma anche migliorare dove eh non ho eh una buona performance e e cose di questo tipo. Bene. Allora eh passo adesso a ehm darvi un breve scursus sulle quindici eh pratiche che abbiamo analizzato eh alcune ve le descrivo molto brevemente altre magari guardiamo un po' di più nel nel dettaglio eh di eh sistemi che molto spesso eh sono ibridi ma che hanno una buona struttura eh digitale virtuale tecnologica alle spalle. Allora quando eh quando abbiamo studiato queste pratiche non le abbiamo neanche chiamate pratiche le abbiamo chiamate dei casi di studio proprio perché ehm perché mh rispetto a quello che vi dicevo prima eh ci interessa ehm trovare degli spunti diciamo l'obiettivo qui era quello di trovare degli spunti che possano essere utili alla prassi sul nostro territorio e al miglioramento di quello che è appunto il il portale orientati.org. Quindi abbiamo costruito le pratiche con questo schema ehm la l'analisi insomma l'indagine la la troverete nelle prossime nei prossimi giorni, nelle prossime settimane sul sito orientati e eh delle quindici pratiche abbiamo cercato di trovarle un po' diverse. Allora sul primo mh cluster chiamiamolo così e ripeto eh sono stato è stato anche mh faticoso inserirle in una categoria piuttosto che un'altra in quanto ci sono molte interconnessioni fra tutte queste. Ma sul tema primo che se vi ricordate eh è quello della dispersione eh scolastica abbiamo trovato due approcci molto diversi. Uno è proprio uno strumento pratico eh che proprio l'agenzia Cedefop ha messo raccogliendo dagli strumenti anche dati dagli stati membri sul tema della prevenzione e eh del contrasto alla dispersione. Quindi è un un portale, uno strumento veramente molto ehm completo, ha veramente tantissime cose dentro che è rivolto soprattutto agli operatori ok? Che a loro volta possono utilizzare gli strumenti disponibili. Il secondo esempio eh ha a che fare molto con il mh il coinvolgimento anche del settore eh cioè delle imprese eh nel nel tema del contrasto alla 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 dispersione. Quindi le eh le imprese stesse eh offrono delle ehm delle opportunità delle eh degli strumenti per cercare di contrastare il fenomeno. Quello che vi quello che vedete qui tanto per darvi anche proprio visivamente che cosa si trova è l'esempio di eh del dello strumento del toolkit di Cedefop no? Ehm e ripeto è eh sostanzialmente dedicato agli orientatori o comunque a chi si occupa di contrasto o di prevenzione quindi anche gli insegnanti alle scuole eh del della dispersione e e e ha tre eh tre tipi di 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 approccio no? Quindi questi sono i profili ci sono delle profilazioni di persone a rischio quindi questo è sulla prevenzione quindi attraverso la profilazione e poi vedete proprio nella parte centrale ci sono proprio attività, strumenti eh buone pratiche, dati, statistiche quindi è veramente un uno strumento eh completo da questo punto di vista che può essere proprio anche personalizzato in base alle alle differenze alle differenti eh situazioni. Scusatemi eh il secondo eh grande ehm diciamo ambito su cui abbiamo identificato in questo caso quattro pratiche e quello eh della eh dell'occupabilità. Queste sono diciamo è l'ambito che si occupa più della transizione sia nella scelta magari del eh delle l'educazione terziaria piuttosto che dell'entrata nel mercato del lavoro ma anche vedremo eh in alcuni casi queste alcune informazioni che riguardano il mercato del lavoro ehm è importante saperle comunicare anche per esempio per i bambini più piccoli almeno eh farli pensare che cosa significa il lavoro. Eh le quattro pratiche vengono da quattro paesi diversi. La prima che poi è quella che vi farò vedere almeno insomma del portale è una pratica che ehm raccoglie eh su un unico portale i dati e le informazioni sul mercato del lavoro. È un portale che è dedicato sia a chi vuole informarsi ma anche agli operatori per fornire strumenti. Eh mentre il secondo è tutta una serie di strumenti eh online anche qui eh dati offerti dalla Camera di Commercio eh austriaca che è ehm sostanzialmente aiuta molto attraverso l'auto eh apprendimento eh ma anche anche attraverso qualche piccola piccolo strumento eh soprattutto per quanto riguarda l'imprenditorialità imprenditorialità. Eh il la stessa cosa a livello però generale quindi un sistema gestito eh per la scelta eh dalla eh dal chiamiamolo Ministero del dell'istruzione e dell'educazione svedese eh mentre eh in Lussemburgo una cosa interessante che abbiamo trovato è eh questo portale che sostanzialmente aiuta i teenager a eh raccogliere il proprio portfolio personale cioè a raccogliere ehm non solo il CV ma tutta una serie di informazioni e anche di eh certificazioni eh per poi andare alla ricerca di lavoro. Allora qui eh vi faccio vedere ehm due pagine del del portale eh labor market information for all quindi informazioni sul mercato del lavoro per tutti che da una parte offre eh dati certificati dalle fonte eh statistiche attendibili eh che possono essere usati dagli orientatori ma offre anche per esempio per gli studenti vi ho fatto il caso che voi vedete sulla 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 sinistra dello schermo ehm un carierometro sostanzialmente in cui potete anche eh vedere eh in in paragone io lì ho messo eh due eh due tipologie di eh di lavori no quindi il programmatore da una parte eh il graphic designer dall'altra quanto eh quanto sono pagati eh quante ore per settimana lavorano e quanto quanto sono ricercati quindi ci sono anche delle informazioni sempre basate su eh dati statistici ufficiali che i ragazzi per esempio le famiglie possono guardare. Il terzo il terzo il terzo ambito eh riguarda un po' più la funzione eh sistemica del dell'orientamento eh quindi un approccio di sistema eh e gli esempi sono due tutti e due dei paesi nordici ehm uno è quello svedese che ehm è un portale esclusivamente per eh i professionisti che lavorano nell'orientamento ok e quindi offre anche insomma formazione e scambio di conoscenza ed è destinato esclusivamente agli operatori o comunque ai professionisti eh l'altro grande portale è il portale della e-guidance quindi dell'orientamento proprio eh virtuale eh della Danimarca eh che è costruito però su un sistema eh un approccio anche teorico eh molto definito quindi vi farò vedere eh semplicemente alcuni alcune cose che offre questo eh che offre questo portale tenendo conto appunto che dietro c'è proprio la sistematizzazione del di quelli che sono i principi eh e gli obiettivi dell'orientamento quindi vedete qui c'è la chat c'è la mail il mobile ci sono i meeting uno uno e poi ci sono tutta una serie di guide che vi faccio vedere qui perché ho avuto la fortuna di lavorare per esempio su su questa bussola del lavoro che sono dei dei test che si possono fare e quindi tutta una serie di strumenti che vengono gestiti dal eh eh fra l'altro dal ministero per i bambini e per l'educazione perché i danesi hanno molta attenzione a questo e che offre veramente di di tutto eh questi tre eh esempi eh riguarda riguardano eh la collaborazione sostanzialmente eh fra eh diversi eh attori che hanno un interesse diretto o indiretto eh nel nell'orientamento il il primo è un esempio un portale online molto specializzato sul tema dell'orientamento professionale ok eh è un progetto anche qui ministeriale ma che mette insieme oltre i servizi pubblici per l'impiego eh offre tutta una serie di strumenti poi fra l'altro di autoconsultazione di gestione proprio dello sviluppo ma con molti eh molti contributi da parte delle imprese no quindi c'è anche proprio incontro domanda offerta con con le imprese. Il secondo il secondo esempio che invece ehm è un esempio eh finlandese è eh uno strumento eh che riguarda mh le pratiche di orientamento professionale legate al eh cambiamento dei curriculum scolastici quindi è un po' quasi come dire un sistema di intelligence eh che sempre di più eh corrispondano alle esigenze del mercato del mercato del lavoro ok quindi da una parte eh datori di lavoro dall'altra parte giovani forniscono informazioni per non dico in real time però in eh con un tempo di reazione molto veloce da parte del della formazione eh professionale eh dei eh dei programmi no che rispettino che quindi eh siano più adeguati al al mercato alle richieste del mercato del lavoro. L'ultimo esempio anche qui un esempio ehm molto legato al al all'orientamento professionale ok se vogliamo chiamarlo così ed è il portale EURES. EURES è ehm un portale in realtà di incrocio domanda offerta ma è quel portale che eh in qualche modo promuove eh la mobilità eh la mobilità territoriale quindi la lo spostarsi eh fra un paese e l'altro anche per avere esperienze. Voi sapete che adesso per esempio con i programmi Erasmus eh non solo i ragazzi universitari ma anche i ragazzi delle superiori e perfino gli imprenditori possono entrare in mobilità. Qui vi faccio vedere eh il la pagina in italiano di EURES. EURES è un sistema blended cioè un sistema che ha sia delle eh dei consiglieri eh EURES quindi delle persone sui territori in Veneto ce ce ne sono uno per provincia eh presso i centri per l'impiego ma EURES ovviamente dà orientamento non solo sul lavoro ma anche sulla vita perché se uno prende una decisione di spostarsi da un territorio all'altro non è solo il lavoro che importa o è fondamentale per fare la scelta è anche lo stile di vita, i costi, la cultura eccetera. Quindi EURES orienta su tutti questi aspetti. E sul ehm quinto diciamo ambito che è quello del coinvolgimento attivo della famiglia e degli altri attori chiave eh ho anche qui due eh due esempi. Il primo è un un portale che viene dall'Irlanda eh creato dal Ministero dell'Educazione Irlandese tra l'altro da molto tempo eh e il secondo e il secondo è invece un servizio che è ehm legato alla eh al supporto delle famiglie con studenti che eh hanno dei bisogni speciali dal punto di vista dell'apprendimento quindi possono avere disturbi dell'apprendimento o altre difficoltà. Vi farò vedere velocemente il il portale irlandese perché se voi vedete qui eh sulla manina dove c'è la scuola i ragazzi che si eh che si diplomano, gli adulti eh chi è la ricerca del lavoro, i genitori e i professionisti voi vedete che questa che questo portale ha qualcosa per ognuno di questi chiamiamoli eh attori interessati, questi stakeholder e per ognuno di questi ci sono degli strumenti no? Sulla parte educativa, sulla parte del lavoro e altri tipi di strumenti. L'ultimo eh ambito è quello dei servizi individuali che significa eh la sempre maggiore diversità che esiste nel nei nostri nelle nostre società implica anche la capacità di ehm di di porre attenzione a queste diversità che possono essere delle vulnerabilità ma anche all'universalità e quindi alla capacità di lavorare in rete ehm di di chi si occupa di orientamento. Anche qui abbiamo due pratiche. La prima una pratica ehm che viene dalla Slovacchia e anche qui molto focalizzata sul tema dei eh ragazzi e alunni con bisogni educativi eh speciali ehm e quindi con con un focus speciale di eh supporto alle famiglie e alle alle ai ragazzi eh anche questa pratica è mista nel senso che ha una parte di strumenti online e una parte in presenza. Eh l'ultima è il è una è una come dico io una una pratica molto francese perché eh riguarda ehm il mh un portale che è semplice nella sua e ve lo farò vedere è semplice nella sua costruzione ma eh che ehm è legato a degli standard nazionali e a delle professionalità eh definite e certificate a livello nazionale. Eccolo qui ve lo faccio vedere, vedete è molto semplice ehm ha mh operatori telefonici, chat, mail e altri strumenti eh informativi eh luoghi, eh scuole e quindi ricerca autoricerca o ricerca supportata dagli operatori. Ok? Vado velocissimo perché ci sarebbero molte cose da dire eh su questo su questa eh su queste pratiche. Eh in breve concludendo cos'è che abbiamo cosa possiamo dire in estrema sintesi rispetto a quello che abbiamo visto? Abbiamo visto sì che durante il covid ovviamente nella pandemia ehm eh l'attenzione su questo sull'erogazione dei servizi di questo tipo ovviamente è eh aumentata eh ed è aumentata eh un po' forzatamente eh però per eh come è successo da noi fra l'altro eh come modalità per assicurare la continuità degli dei servizi stessi no? Così come la scuola, no? Così come la scuola, anche l'orientamento, così come altri servizi per esempio pubblici. Eh però cos'è che abbiamo notato? Abbiamo notato che eh la tecnologia ehm anche per il per l'orientamento come così tanti altri eh servizi pubblici è ormai diventata un elemento indispensabile eh dell'offerta pubblica eh pubblica di servizi. Abbiamo visto con grandi diversità, con grandi eh con approcci diversi che sono veramente legati ai paesi e ai contesti. Eh e un terzo elemento che abbiamo trovato è che che comunque esiste nell'orientamento eh questa ibridazione fra servizi in persona in presenza e servizi a distanza. Cioè eh in questo momento non abbiamo visto in nessun in nessun paese la sostituzione eh dell'orientamento virtuale con l'orientamento reale. E questo questo paese questa questa diciamo tendenza non è un'eccezione o non è l'eccellenza danese ma veramente l'abbiamo abbiamo trovato delle pratiche su tutti i paesi. Ehm alcuni alcuni punti su cui eh porre attenzione eh per il futuro è che eh a parte forse il sistema danese che include dei degli strumenti di monitoraggio e valutazione eh non è eh non è stato possibile non abbiamo degli elementi oggettivi per eh valutare se queste pratiche eh in qualche modo garantiscono la qualità, la rispondenza con le necessità e gli obiettivi degli utenti. Questo non non abbiamo potuto evincerlo insomma dall'analisi e eh in maniera altrettanto importante abbiamo visto che eh la eh la figura centrale degli operatori eh quindi da una parte l'atteggiamento, atteggiamento verso lo schermo e verso le competenze anche tecniche per utilizzare in maniera efficace questi strumenti non è ancora a prassi eh comune eh se non in alcuni paesi. Eh anche qui eh anche qui nel nostro territorio sicuramente quello che che mh ci raccontava insomma anche il team di di Cedefop è l'importanza di formazione per gli operatori su questi su questi eh temi, sull'utilizzo di questi servizi, non solo l'utilizzo ma anche proprio la eh la progettazione, l'erogazione e la valutazione dei servizi. ecco qua. Allora chiudo. Hanno questi quattro elementi eh di ehm di come gli strumenti possono aiutare, in in che modo entrano gli strumenti digitali che come li abbiamo visti qui che sono sull'informazione, sulla comunicazione quindi insomma sulla consulenza, sulla collaborazione, cioè sul fatto che si possa anche in gruppo, anche fra operatori, anche fra studenti interagire eh e condividere informazioni e quell'aspetto diciamo trasformativo di come, che l'abbiamo visto in maniera molto rara devo dire, di che la tecnologia cambia, trasforma proprio come questi servizi eh e attività vengono erogate. Non non siamo ancora lì devo dire. Ecco io su questo qua avrei concluso. Non so se ci sono ci sono domande. Ilaria? Sì Sandra grazie mille per per questo intervento. Vediamo se riusciamo a rispondere a una domanda. Ehm allora secondo te quali lezioni possiamo ricavare quindi dall'esperienza delle reti di orientamento per quanto riguarda la messa a punto di questi strumenti ibridi per l'orientamento? Ma ehm ehm tre cose direi. Ci sono tre gli elementi qua eh al dottor Menin volevo dire tre gli elementi che secondo me che io ho preso insomma dalla ricerca eh che che sono importanti. Il primo è l'accessibilità. Cioè che questi strumenti siano accessibili non identificabili ma anche proprio utilizzabili dal punto di vista della fruizione che quindi siano creati secondo la logica del chiamavo cliente no? La seconda eh è che è molto legata alla prima è l'aspetto interattivo. Abbiamo visto come c'è un ci sia molto non ci sia un atteggiamento molto aperto nell'utilizzo di questi strumenti ma l'interattività che nella parte in presenza è molto forte dovrebbe essere in qualche modo essere un elemento eh costituente di questi servizi eh online. Quindi questi due questi due aspetti secondo me sono eh quelli più importanti. Terzo ovviamente è eh la cultura, la preparazione e le competenze degli operatori e l'utilizzo di questi strumenti. Ecco. Non so se ho risposto ma proprio in estrema sintesi perché non so quanto tempo abbiamo. Ah no è già finito quasi. Sì siamo siamo sì addirittura d'arrivo. Ok. Perfetto. Bene io non ho altre. Dottor Menin voleva fare un saluto. eh questo è tutto per me. Eccomi qua. E grazie. Davvero grazie. Grazie Sandra. Grazie. Penso che guardare quello che succede un po' fuori dal nostro ombelico ci aiuta anche ad avere qualche spunto, qualche elemento di interesse che può aiutarci a riprogrammare le nostre attività, renderle sempre più fruibili. Non perché bisogna per forza fare quello che fanno gli altri ma eh allegare un po' lo sguardo aiuta sempre a a migliorarsi, a trovare spazi e ambiti di miglioramento. Grazie ancora Sandra. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao. Grazie. Arrivederci. Grazie.